Questo pomeriggio vi parlerò di Compute Engine, quello che si può fare con essa e parlerò a inizio e a fine presentazione anche del cloud computing, che cos'è e come la cloud platform di Google entra per rispondere, si spera, alle vostre esigenze e ai vostri problemi. Allora, la cloud platform offre tanti servizi, il più famoso che offriamo da ormai sei anni, sette anni se non sbaglio, è Google App Engine, è un sistema che fondamentalmente vi dà un frontend che scala automaticamente per voi un'applicazione, voi scrivete il codice, questo codice va su una macchina, se avete tante 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 richieste magari vengono create nuove istanze, una, due, tre, altre dieci o cento istanze che vi permetteranno di onorare le richieste dei vostri clienti senza avere dei time out dopo dieci secondi, perché magari sono tutti sul vostro sito, fate, non so, un giornale online, le prime dieci persone riescono ad accedere al vostro giornale, dopo mille, duemila, diecimila o centomila, esiste sempre un numero al di sopra del quale il vostro server si siede e non riesce più a servire a onorare le richieste e i vostri clienti non vanno più sul vostro sito e voi perdete clienti e perdete soldi. App Engine risponde a questa domanda, Compute Engine che è abbastanza recente, l'abbiamo lanciato un anno fa, un anno e mezzo ormai fa ed è adesso disponibile a tutti voi, invece risponde ad un'altra domanda, la possibilità di creare macchine virtuali online, cioè macchine, per ora soltanto Linux ma a breve avremo macchine di altro tipo, nel quale potete installare il software che volete, supponete di avere, non so, una libreria Java particolare, un binario che funziona su una macchina Unix o una macchina Windows ma non funziona nei sistemi di hosting tradizionali, allora Compute Engine potrebbe essere la risposta che fa per voi. E come dicevo stamattina, Compute Engine non offre soltanto delle macchine virtuali, offre un intero ecosistema in cui queste macchine vivono, quindi potete creare delle reti, potete creare dei load balancer, delle regole di firewall che si applicano solo a certe reti, potete avere la rete DMZ, la rete default, lo vedremo più tardi, potete creare dischi, attaccarli, staccarli, creare snapshot, creare una macchina che vi piace, fate uno snapshot, istanziate un disco in un'altra zona tipo in America e istanziate una macchina a partire da questo disco, magari ne istanziate 10, poi l'ottava per qualche motivo crescia, la tirate giù, da uno stesso snapshot tirate su di nuovo l'ottava, la chiamate con un altro nome e in qualche modo utilizzando dei meccanismi che vi posso far vedere, il sistema ne tiene conto e la utilizza per esempio, il load balancer può aiutarvi a raggiungere lo scopo di raggiungere un certo numero di macchine, un grappolo, un gruppo di macchine senza preoccuparvi di come si chiamino, di che indirizzo IP abbiano, perché c'è un livello di indirezione che viene gestito direttamente dal nostro front end. Ok, poi abbiamo Cloud Storage che è un sistema che vi permette, è un object store, vi permette di immagazzinare dati, immaginate file statici molto grandi per esempio, immagini, musica, video o dati di un telescopio per esempio. Poi abbiamo, nella nostra offerta abbiamo Cloud SQL che è molto interessante, è un MySQL as a Service, quindi è un database tradizionale, quindi relazionale, opposto al data store che chi di voi conosce App Engine conosce bene. Mi alzate la mano chi di voi ha utilizzato App Engine nella propria vita? Ok, not too bad. Chi di voi ha utilizzato qualunque altra cosa della Cloud Platform, da Cloud Storage o a Compute Engine? Ok, state mentendo perché molti di voi erano qua stamattina ma facciamo finta di niente. Ok, grazie. Altre parti dell'offerta della Cloud Platform sono Translate API, Prediction API che vi permettono di inferire dagli dati sorgenti, di fare delle previsioni, di capire, è praticamente un classificatore, vi permette di capire se una cosa è di sinistra o di destra o se una cosa è buona o cattiva, dandogli in pasto dei dati iniziali in cui voi insegnate al sistema come si comporta. Ovviamente non parleremo di questo oggi pomeriggio, parleremo soltanto di Compute Engine, ok? Però giusto per darvi un quadro. Cloud Computing, penso che la parola più importante di questa slide sia scale. Il Cloud Computing vi permette di fare qualcosa che nel modo tradizionale non potete proprio fare. Voi potete creare qualunque idea, qualunque progetto voi abbiate, potete realizzarlo non più solo con una macchina ma con n macchine. E la cosa bella, se andate a pensare al fatto che pagate ogni minuto in cui una macchina è su, è che potete decuplicare il numero di macchine e tendenzialmente se avete scritto il programma con un certo criterio potete riuscire ad ottenere il vostro risultato in un decimo del tempo. Quindi alla fine il prezzo si bilancia, non è che dovete pensare a creo 10.000 macchine chissà quanto spendo, perché magari queste macchine vi trovano il risultato in un decimillesimo del tempo di una macchina. Ovviamente non è proprio un decimo di millesimo ma l'ordine di grandezza però rimane. Non so se mi seguite. Allora, ok. Vediamo in cosa si inserisce il mondo di Compute Engine. Allora, se entrate in cloud.google.com.console, cosa che vi invito a fare se avete un browser, avete un navigatore che espone tutti i progetti che avete. Probabilmente saranno nessuno, se è la prima volta che ci accedete, se avete già fatto App Engine o altre cose, avrete dei progetti. Per chi non sa cos'è un progetto, il progetto è il contenitore base all'interno del quale potete creare istanze di Compute Engine, istanze di App Engine, potete creare dei database con Cloud SQL, potete creare dei bucket, degli oggetti. E tutti questi oggetti all'interno di un progetto sono in grado di parlarsi tra di loro. Cioè, ereditano uno scope all'interno del quale l'applicazione A può parlare al back-end B. Per back-end intendo può essere un database, un data store, una macchina di Compute Engine e così via. Per chi era stamattina al Code Lab, è praticamente la parte in cui noi creiamo una macchina con gli scope, con i service account che permettono alla macchina di scrivere o leggere da Cloud Storage. Sono tecnologie diverse unite da API comuni e la possibilità anche di far parlare queste tecnologie, che poi forse è il più grosso vantaggio di utilizzare la piattaforma Google. Il fatto è che avete tante tecnologie diverse e potete orchestrarle come più vi aggrada, a seconda delle vostre necessità. Quindi un progetto è fondamentalmente un contenitore a cui è associato il billing, chi è che paga, una carta di credito con tutta probabilità, potrebbe essere uno fly billing, se avete dei workflow un pochettino più grossi e volete essere, volete pagare a fine mese. Avete una squadra, persone a cui associare questo progetto che ereditano dei diritti che voi gli concedete, con un grant potete dire questa persona può creare macchine, questa persona non può creare niente ma può leggere dal database per esempio. Poi abbiamo le macchine virtuali che come vi dicevo sono delle macchine Linux, attualmente forniamo Debian 6 e 7 e CentOS. Avete la possibilità ben documentata nel sito di creare macchine di altro tipo, potete creare una Ubuntu, una Slackware, una Gentoo, quello che vi pare. Una volta che create l'immagine seguendo i parametri della documentazione, basta googlare create your own image for compute engine e dovreste trovarlo. Quindi potete avere fondamentalmente le macchine che volete. Stiamo lavorando sulle macchine Windows quindi nel caso abbiate bisogno di esse, non posso fare garanzie sui tempi ma avremo anche le macchine Windows, questa è una cosa promessa. I processori sono da 2,7 GHz, la memoria è sui 3,7 GB e questo è il mattoncino principale perché non so se ricordate chi di voi era stamattina, potevate creare le macchine N1, N2, N4, N8. Quello è il moltiplicatore, quanti core avete in proporzione al mattoncino base. Quindi potete avere macchine con più CPU, macchine con più RAM a seconda del tipo di calcolo che dobbiate fare. Ok? Poi parliamo di network. Allora, le network hanno tantissime, ci sono tantissime entità connesse alla network, la prima è la network stessa, voi avete una network di default chiamata default, è la 10.0.0.0.0.0.24 e di base avete tutte le macchine lì. Potete creare una DMZ in un'altra rete, potete creare, in teoria potete avere anche progetti diversi in reti diverse, progetto 1, progetto 2. Queste sarebbero inutili se non fosse per il fatto che avete la possibilità di creare regole di firewall e regole di routing. Potete dire, tutte le volte che una richiesta arriva a quest'IP, mandala invece a quest'altra rete, mandala a questo gateway che sa come smistarla. Se siete bravi a fare del routing con Linux potrebbe essere quello che vogliate fare. Fate un bel filettone con i p-tables, ci mettete tutte le regole che volete, il vostro NAT e utilizzate questa testa di ponte per fare il routing alle macchine che vi interessano. O potete lasciare fare questo lavoro a noi, che abbiamo un load balancer che fa per voi, e ragionare su altri livelli di complessità. Ma se dovete fare qualcosa di più complesso di quello che noi vi offriamo, ovviamente avete gli strumenti per farlo. Quindi avete reti, all'interno di una rete potete creare delle regole di firewall, potete dire apri la porta 80 sulla rete DMZ, apri la porta 3306 sulla rete database e così via. Per quanto riguarda internet, le macchine di default nascono con un indirizzo IP pubblico che però è efemerico. Efemerico vuol dire che cambia ogni volta che tirate su una macchina diversa, cioè non avete garanzia di quale IP sia. Se volete un IP statico, potete comprarlo. La cosa divertente è che l'IP statico è assolutamente gratuito e viene fatto pagare soltanto quando è detached da una macchina. Cioè nel momento in cui è attaccato a una macchina è gratuito. Nel momento in cui voi non utilizzate nessuna macchina con quell'IP pubblico, quindi quell'IP pubblico è stale, non so come si dice in italiano, è lì a far niente, col fatto che noi dobbiamo pagare il ripe per avere una locazione di IP, vi diamo questa responsabilità per essere sicuri che gli IP li utilizzate effettivamente. Però se li utilizzate per un qualunque tipo di lavoro, questi IP non vi costano assolutamente niente. E quindi potete dare a un vostro cliente e dire guarda i miei DNS stanno all'IP 1.2.3.4, dimenticarvene perché quell'IP è vostro per sempre. Potete anche attaccare IP che possediate per altri motivi. Dall'API potete fare GC Util, Attach IP e avete un IP che la vostra azienda per qualche motivo ha, che il RIP è comunque ruta già verso la vostra azienda. Quindi insomma avete tantissime possibilità. Ok? Parliamo un attimino di dischi. Allora, quando create una macchina virtuale potete avere dischi persistenti o dischi, si chiamano scratch disk, sono dischi usa e getta. Il secondo è un disco che nasce e muore con la macchina. Vuol dire vi disinteressate di quello che sta su questo disco perché magari è un banalissimo boot disk, ma i dati che vi interessano sono in un altro disco che vi potete attaccare. Poi ci sono i dischi persistenti che viceversa sono dei dischi garantiti essere persistenti, scusate la duplicazione. Questi dischi rimarranno sempre dove sono, vengono garantiti essere in più posizioni della stessa zona, quindi comunque è altamente improbabile che succeda una corruzione dei dati o che perdiate il disco. Ve lo dico proprio col cuore in mano. Siete tranquilli quando avete un dato su persistent disk. E poi supponiamo di avere una macchina su persistent disk in cui fate tanti tanti lavori, ogni settimana aggiungete carico, potete fare degli snapshot, che è un concetto a cui siete sicuramente abituati magari con VMware o altre virtualizzazioni. E quindi potete anche, potete palleggiare il concetto di snapshot al concetto di disco, cioè potete trasformare un disco snapshot, ma anche istanziare un disco da uno snapshot. La differenza è che un disco è attaccato a una zona e lo snapshot è da qualche parte nel cloud, non vi dico dov'è, comunque da qualche altra parte. Potete passare dall'uno all'altro e potete ovviamente istanziare immagini a partire da un disco. Quindi potete creare una vanilla installation, per esempio ottobre 2010-01, 2013-10-01, quella è la vostra vanilla e create 10 macchine a partire da essa. Poi vi viene un'idea, aspetta, ho dimenticato di installare Apache, installate Apache, avete la versione novembre 01, avete un altro snapshot, questa volta potete istanziare l'immagine vanilla 2, ok? E istanziarne magari 10, 100, 1000 a seconda di quello che ci dovete fare, è tutto molto semplice, ve lo assicuro. Il disco è criptato, quindi i dati sono assolutamente sicuri e anche se il vostro progetto è separato dal progetto degli altri clienti, quando anche ci fosse un qualunque tipo di accesso non autorizzato, chiunque non abbia quella chiave non ha alcun accesso a quei dischi, quindi da un punto di vista della sicurezza siamo stati attenti, abbiamo anche dei problemi quando un cliente ci chiede di ritrovare dei dati per loro perché è veramente problematico. Poi un altro pseudo disco, un altro sistema di storage a cui potete accedere è Cloud Storage, ne ho già parlato stamattina, è un object store come vi ho accennato, potete utilizzarlo da riga di comando, potete utilizzarlo da web, abbiamo la pagina web cloud.google.com slash console, vi permette di accedere a tutti i vostri progetti, quindi potete vedere tutti i vostri file, navigare queste directory virtuali, ripeto non sono directory vere, potete fare delle cose interessanti come queste, potete utilizzare una riga di comando, scusate se è un po' sgranato, gsutil, ve lo leggo, gsutil mb come make bucket, gs due punti barra barra e poi il nome del bucket, ho creato il bucket compute engine, se ci provate dovrebbe fallire perché già esiste, gsutil copia sample.py qua dentro e automaticamente copierà un file che avete in locale e lo metterà nell'object store, a questo momento questo oggetto è persistito e garantito esistere per sempre, finché avete il vostro progetto attivo ovviamente, gsutil ls potete fare un ls, un ls-r, è praticamente una riga di comando molto simile, compatibile con tutti i comandi a cui siete abituati da riga di comando e potete fare cose molto interessanti, la cosa più interessante dell'object store è che potete ridirigere un dns al vostro sito web, quindi potete per esempio se avete delle immagini, dei film, qualunque cosa abbiate nel vostro sito potete far ridiriggere tutta la parte statica del vostro sito a questo object store che sarà magari replicato in più zone, quindi magari in America, in Europa, in Asia e quindi avere delle latenze molto basse e dei costi anche bassi per quanto riguarda gli hit, pensate chi legge, non so, un giornale online, la parte di HTML è molto piccola rispetto alla parte di immagini e documenti in generale, quindi può aver senso mettere i file statici che sono più grossi da un'altra parte perché questi hanno un accesso più veloce e meno costoso. Ok? Come accedere a Compute Engine? Tutto questo mondo è esposto all'esterno tramite delle API, queste API hanno una versione, adesso siamo alla v1 beta 16, probabilmente le slide afferiranno alla 15 perché l'abbiamo lanciata da poco, la 16, ci sono tre modi fondamentalmente per accedere alle API, riga di comando che è la gcutil che vedrete più avanti e che stamattina avete utilizzato allegramente, la UI che è il cloud.google.com.console che come vi dicevo è veramente, ho parlato con gli sviluppatori e abbiamo un team in America che ci sta lavorando allacremente e ogni settimana abbiamo nuove feature, la cosa bella è che se volete inserire una, creare una nuova istanza da web vi fa, vi popola automaticamente tutte le istanze possibili, le immagini possibili, le zone possibili, quindi è molto più facile che da riga di comando, però se volete far partire 100 macchine non volete compilare una form 100 volte e cliccare 100 volte, giusto? È come per notare, non so, un aereo, per 100 biglietti aerei tutti identici, non ha senso cliccare 100 volte, allora in quel caso dovrete sporcarvi le mani con la riga di comando, però poi dopo potete lanciare 100 macchine nel giro di pochi secondi e ve l'assicuro. Una mia collega ha fatto partire tipo mille macchine in cinque minuti, tipo, e basta aver la quota e non c'è nessun problema. Avete una quota iniziale che è un po' piccolina per evitare che la gente si metta a far partire 100.000 macchine e faccia sedere i nostri data center, però ovviamente col tempo siamo ben contenti di alzarvi la quota, ok? Codice, terzo ma non ultimo, ultimo ma non ultimo, abbiamo delle API scritte per Java, Python e Go, che sono i tre linguaggi maggiormente supportati da Google, poi stiamo lavorando su Ruby, stiamo lavorando su PHP, adesso che è stato unito ad App Engine, penso che stiamo lavorando anche su quello, però posso per ora garantire soltanto per Python, Java e Go. Stamattina con chi era al Code Lab abbiamo scritto un programmino in Python per vedere una lista delle istanze che sono disponibili nel vostro progetto. Così facendo potete fare, creare una logica di vostro piacimento, potete vendere Compute Engine ai vostri clienti offrendo uno strato intermedio che aggiunga del valore, come sta facendo MapR e abbiamo due clienti che stanno vendendo fondamentalmente Compute Engine al mondo intero, offrendo qualcosa di più al di sopra. Ovviamente loro scrivono codice dalla mattina alla sera e offrono magari monitoraggio, offrono resilienza, offrono delle cose in cima al servizio che offriamo noi. Noi vediamo quello che si chiama Bare Metal, che non è proprio Bare Metal perché sono macchine virtuali, però quello che vi offriamo sono delle macchine che possono nascere, possono morire. Dovete creare voi un sistema che sia in grado di resistere alle rotture, che è una cosa che nel cloud dovete sempre tenere in considerazione. Questo è uno screenshot che ho fatto qualche settimana fa, purtroppo non si vede molto bene, però come vedete qua avete un overview del vostro progetto, qua avete le vostre tecnologie, quindi App Engine, Compute Engine, Cloud Storage, è illegibile vi chiedo scusa, ma volevo farci stare tutto. Qua c'è il nome della macchina, riusciamo a metterlo un pochettino più a fuoco? No, non si riesce. Chiedo Venia. Comunque la cosa interessante è che qua questa zona è US Central 1A, penso, e cliccando qua vi dà una lista di tutte le zone. E fin qua è anche poco interessante, però è interessante qua quando ci sono i vostri snapshot, questo viene popolato automaticamente tramite Ajax, quindi quando avete una macchina che avete creato un minuto fa, uno snapshot creato un minuto fa, un'immagine creata un minuto fa, potete dirgli guarda, creami questa macchina, che si chiami così, di questo tipo, prendendola dall'immagine Cosmos o prendendola dall'immagine vanilla fatta ieri e cose del genere. Qua c'è il networking, che tipo di, la rete di default, l'IP efemerico, l'IP pubblico, eccetera, eccetera, accesso al progetto, questa è la cosa che vi ho fatto vedere stamattina per chi era nel Codelab, questa è la parte in cui tu permetti ad una macchina virtuale di accedere alle API automaticamente, cioè se voi cliccate su questa checkbox che adesso non vedete, e vi invito a farlo se avete accesso a Compute Engine, potete creare una macchina che abbia già il diritto di accedere a certi servizi e voi gli dite anche se è in lettura, in scrittura o niente, tipo volete una macchina che faccia da orchestrator per creare altre macchine, un qualcosa che sia, avete un cloud elastico, volete una macchina che si accorga, se c'è troppo traffico crea nuove macchine, volete che abbiano accesso in lettura, scrittura al Compute e non volete che abbia nient'altro. Avete un'altra macchina che fa del logging su cloud storage, volete che abbia il write only, ma non il read, magari per motivi di sicurezza, magari avete 10 clienti diversi che scrivono negli stessi bucket, volete che abbiano il diritto in scrittura ma non in lettura, caso strano ma può assolutamente succedere. Ok? Ah però siamo già arrivati verso la fine. What time is it? Ah that's not too bad. Load balancer, il mio scopo per questo talk era parlare del load balancer, farvi vedere un paio di script che avevo fatto eccetera eccetera, vi voglio solo magari incuriosire un attimino. Che cosa fa il load balancer? Io penso, ne parlavo con Alessandro quando ha cominciato a lavorare con noi, penso che il load balance sia praticamente la seconda applicazione che ogni persona fa quando comincia a fare computer engine. La prima è servere Apache e vedere che funziona, vedere che il vostro indirizzo IP ha la pagina, scrivete ciao mamma e tutto compare e siete contenti perché avete creato una macchina voi, avete tirato su un servizio, avete dovuto configurare il firewall per aprire la porta 80 perché sennò non ci accedete e questo è una prima soddisfazione. Poi dite, l'appetito vi è mangiando, dite questo è fin troppo facile. Il secondo esercizio che uno tende a fare è, aspetta, proviamo ad avere dieci macchine, dieci server web e ciascuno di essi mi dice io mi chiamo web 1, web 2, web 10. Ora il problema del load balancing è un problema che molte aziende si pongono da più di un decennio e poche l'hanno risolto brillantemente, creatori di firewall, aziende come Google, come Amazon o come tante altre aziende, non è un problema facile da risolvere. L'idea è questa, ho un back end con 100 macchine, n macchine scusatemi, e voglio fare in modo che quando una persona digita www.google.com vada in una macchina a caso che sia in grado di offrire quel servizio, ma non voglio sapere che macchina è, voglio un livello di indirettezza, non voglio sapere che macchina sia ma voglio che quando io digito www.google.com arrivo nella macchina possibilmente la più vicina a me, possibilmente non carica, possibilmente tante belle cose. Cominciamo con intanto arrivare a una macchina a caso, che già non è un problema da poco. Già vi accorgete che ci sono dei fattori, io posso dire che le macchine sono dalla 1 alla 10, fare l'hard coding degli IP, il problema è che se la macchina numero 8 mi cade giù in un certo momento, come faccio io a sapere che la macchina è caduta e dire al controllore guarda che la macchina è caduta, toglila dal pool del load balancing. Ora se è una cosa che volete implementare voi e io ci ho provato, è molto passibile di fallimento e il motivo principale è qui custode custodes, se avete sentito questa, si fa molto in networking, il problema è come fate a garantire che anche il controllore non cada, quindi dovete fare un sistema a due livelli, multi controllore, perché un controllore da solo può essere il vostro collo di bottiglia, caduto lui cade tutto. Giusto, potete fare un sistema robustissimo ma il controllore non funziona. Quindi il load balancer è, Google si è tolto una, ha praticamente utilizzato una tecnologia che usa da tanti anni, che è quella con cui il nostro front end, con cui diamo, non so, search, google.com e tutte le nostre altre tecnologie, abbiamo una tecnologia già esistente, l'abbiamo applicata a Compute Engine e adesso l'abbiamo lanciata da un mese e mezzo, da metà ottobre se non sbaglio, primi di ottobre, utilizzabile e fondamentalmente funziona così. È un load balance di livello 3, lavoro a livello regionale, quindi dite ho un load balance in Europa e uno in US Central. Una regione è un array di più zone, ce n'è sempre almeno due, tipo Europe West 1 è una regione, Europe West 1 A e B sono due zone. E la parte interessante quindi è che potete fare load balancing solo tra macchine che stanno in zone limitrofe, ma possono essere zone diverse. Questo è il pregio che se una zona cade perché la mettiamo in manutenzione per una settimana, potete avere macchine nell'altra zona e avere la garanzia che il load balancer attinge tra un pool di macchine di cui almeno la metà sono sempre su, che è quello che poi voi volete. Lo scopo del load balancing è il vostro cliente non si deve accorgere che voi andate giù per 5 minuti, questa è l'idea. La parte bella del load balancer è che ha una cosa chiamata, session affinity è un po' più complicata, ve ne parlo dopo, ha una cosa chiamata target rule in cui voi dite tutte le macchine che si chiamino, tutte le macchine web 1, web 2 fino a web 10 appartengono a questo pool. Associate a questa regola un indirizzo IP, è veramente semplice ve l'assicuro, d'ora in poi l'IP 1.2.3.4 è l'indirizzo pubblico che voi date al vostro cliente o al vostro DNS server, lo configurate www.lamiapagina.com. A questo punto ogni volta che uno digita quella pagina il DNS gli risponde con un IP, una volta che avete quell'IP la richiesta va a Google, Google decide sulla regola del load balancer di questa forwarding rule decide a quale macchina mandarla, l'algoritmo più semplice è una round robin, quindi il primo va sulla 1, il secondo va sulla 2, il decimo va sulla 10 e l'undicesimo torna dalla 1. Questa è la regola più di base. Poi abbiamo un concetto chiamato session affinity. Vi faccio un esempio, supponete di avere voglia che il vostro cliente numero 1 vada sulla macchina numero 1, ma ogni successiva richiesta rimanga sulla stessa macchina, volete che ci sia un concetto di sessione che rimanga incollato sulla stessa macchina. Come fate a garantire una cosa del genere? Allora Google ve la dà come possibilità, potete flaggare voglio la session affinity a livello di IP e di porta e così facendo il sistema ricorda come se fosse una tabella NAT, ricorda l'indirizzo IP sorgente, ricorda la macchina del pool a cui è stato associato e continuerà a fare richieste lì. Perché potreste voler fare una cosa del genere? Beh immaginate, l'esempio più stupido è autenticazione, uno fa il login sulla macchina numero 1, ma sulla macchina numero 2 non l'ha fatta. Però questo è un esempio brutto perché nessuno disegnerebbe mai un sistema in cui, a seconda della macchina in cui vai, devi fare un nuovo login ogni volta, sarebbe veramente bad design. Un esempio potrebbe essere una macchina che tiene in cache delle informazioni e se non le ha le scariche ci mette magari qualche secondo, se ce le ha già a livello di millisecondi ve la serve subito. Beh, in questo caso allora avete delle macchine che sono tutte uguali, nascono tutte uguali e questo è un esempio secondo me più calzante. Dopodiché questa macchina che ha, è conveniente che il cliente, l'utente X vada sulla stessa macchina perché probabilmente la cache avrà in cache delle informazioni che questo cliente ha già chiesto, per motivi puramente statistici. E la statistica qua monetizza molto bene, nel senso se fate delle cache fatte bene, riuscite a risparmiare un ordine di grandezza e a volte due. E non sto scherzando, parlo veramente di uno o due zeri risparmiati per politiche e tecniche di caching fatte bene. Quindi questa è una cosa che può funzionare. Una cosa che ho trascurato di dirvi è che il load balancer tiene, diciamo pingate queste macchine e se per 15 secondi una macchina non è responsive, viene tolta automaticamente dal pool, viene marcata come cattiva, viene marcata come unhealthy. E quindi per 15, ci sono 15 secondi in cui una macchina non va e avrete questo problema ovviamente, ma è sempre un trade off, no? Però dopo 15 secondi questa macchina è tolta dal pool e quindi avete la garanzia che con buona approssimazione il vostro cliente vada sempre a colpire una macchina ben fatta. La parte più bella sono gli health check. Voi potete fare qualcosa di stupendo come questo, potete dire verifica, qua non metto niente di proposito, voi potete dire verifica la pagina alla porta 80 con indirizzo slash check. Così facendo voi potete, supponiamo che voi siete sistemisti e avete degli sviluppatori PHP, Java, whatever, e queste persone hanno scritto un'applicazione che voi non sapete come funzioni, ma gli dite guarda fammi una promessa, fai un check del sistema, che sia veloce, costi poco, perché comunque lo facciamo ogni 15 secondi, e se io faccio la curl non autenticata di slash check alla porta 80 della tua macchina, tu mi devi ritornare 200 se va tutto bene o 400, 400, 500 se le cose non vanno bene. Così facendo potete dare questo impasto al load balancer che automaticamente farà questo check per voi e rimuoverà le macchine che non rispondono a questo check dipendentemente dal check. E quindi comunque la semantica della vostra applicazione è dentro a questo check. Io non so cosa ci sia. Il default è una get della porta 80 e potete veramente provarlo con delle macchine virtuali, potete dire apt-get install Apache su 10 macchine, puoi fare un service stop su un paio di macchine e vedrete che queste vengono rimosse dall'old balance nel giro di 30 secondi, che è una cosa abbastanza pregevole. Ora questo è un diagramma di massima. Quanto tempo ho ancora? 20 minuti. Fantastico, stupendo. Allora questo è un diagramma di massima per farvi capire. La domanda che ho di più, che mi fanno più spesso su Compute Engine è come si inserisce Compute Engine in un'architettura di cloud? Ok, vi avevo promesso che avrei parlato di cloud e ci stiamo, l'abbiamo fatto un po' all'inizio e ne parliamo anche adesso. Questa è un'architettura fatta da? Was it you to do that? Ok, quindi una squadra negli US ha fatto questo bellissimo diagramma che vi fa capire che il vostro cliente è qua, nel mobile, con un browser web o con qualunque cosa. Di solito il primo punto di accesso di una qualunque applicazione mobile è sempre una pagina web, che il cliente la veda o no è un'altra cosa, quando fate un giochino online tipo, non so, Ruzzle, che è un nostro cliente, oppure un qualunque gioco online che fate sull'iPhone o su Facebook o qualunque cosa, di solito va ad accedere a delle pagine web con delle API che vengono servite da un frontend web, quindi per intenderci un Apache o un Nginx o qualunque cosa essa sia. Quindi nello scenario di Google sicuramente il primo frontend è App Engine. App Engine ha la grandissima proprietà e penso, possiamo vantarci di dire, è l'unico al mondo a fare questo, almeno che io sa che potrei sbagliarmi, questa è la capacità di scalare automaticamente in maniera orizzontale, vuol dire che basta configurarlo e lui automaticamente sarà in grado di accettare connessioni su più macchine. Se una macchina non basta ne creerà altre. La scalabilità è elastica in maniera che dipendentemente da quante persone, da quante get stanno andando a incidere sulla porta 80 di questa macchina, lui creerà più macchine per sostenere il traffico o quando il traffico, non so, siamo di notte e ci sono meno persone per risparmiare, torna a meno macchine e quindi è una fisarmonica di macchine che vanno su e giù nel tempo e voi pagate solo per quello che utilizzate, che è probabilmente il concetto base di cloud. Paghi ciò che usi. Quindi se questo è il frontend, che cos'è Compute Engine? Ma sicuramente è un ottimo esempio di backend. Anzi, in parole povere possiamo dire, avete bisogno di un backend SQL? Usate Cloud SQL. Avete bisogno di un backend di oggetti, quindi oggetti statici, immagini, foto, film, dati geografici, non so, GIS, roba del genere. Usate Cloud Storage. Avete un sistema no SQL, il Data Store. Siamo abbastanza famosi per il Data Store perché piace molto, che è un sistema fondamentalmente di hash. Voi potete mettere degli oggetti che sono degli hash. Avete nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, poi vi svegliate un mattino e dite, aspetta, ho dimenticato anche l'età. E da questo momento in poi il vostro Data Store conterrà oggetti che hanno anche il campo età, ma non è che dovete stare a cambiare il database, è molto agile come metodologia. Vi permette di adattare il sistema nel tempo e aggiungere campi nel tempo. Poi dovrete magari avere degli algoritmi per correggere i dati magari più obsoleti, a cui manca un campo. A livello di logica di programma dovete essere in grado di gestirle, ma più o meno ci siamo. Quindi vi dicevo, se questo fa per voi, siamo a posto. Se questo non fa per voi, probabilmente avete un task abbastanza complesso che meriti la creazione di una macchina virtuale. Un modo bellissimo per App Engine, per comunicare con Compute Engine, sono le task queue. Le task queue le abbiamo lanciate da pochi mesi, è tutto in fieri qua nella cloud platform e la cosa molto bella è che la task queue è una coda, pensate una mailbox, fondamentalmente una coda, FIFO, sì FIFO, yes FIFO, in cui App Engine deposita dei task che devono essere processati e magari Compute Engine sta in ascolto su questa coda e processa queste immagini. Dovete pensare a un batch processing, cioè un processing, qualcosa che non... il vostro cliente quando carica una pagina ha due secondi, avete un secondo di tempo per rispondere. Se qualcosa richiede un'ora, gli dite, aspetta, ritorno, subito la pagina, in questo sito. Attenzione, stiamo processando la tua richiesta, ti manderemo la risposta via email, oppure torna da noi domani con la risposta alla pagina tal dei tali. È perché state processando nel backend qualcosa che richiederà un'ora, un giorno, quello che è. Ok? Quindi questo è un buon diagramma per capire come possiamo architettare il nostro sistema. Abbiamo dei clienti che scrivono codice in cima alle nostre API, per esempio RightScale, come vi dicevo, vende macchine virtuali in cima alla nostra offerta. Puppet e Chef, quindi Puppet e Opscode, creano un sistema basato su Ruby in cui potete istanziare macchine da riga di comando, potete usare un backend che volete, potete utilizzare Google come un altro competitor tranquillamente, basta che mettiate i dati in una chiave e poi dopo in maniera del tutto trasparente c'è un sistema di verbi e di entità, quindi crea istanza o cancella istanza o crea rete, che è trasparente rispetto al backend che volete utilizzare. Una cosa molto interessante è che avete la possibilità di accedere a uno starter pack, penso che vi sia stato detto anche stamattina. Se digitate questo codice ALM IN avete 2000 dollari o 2000 euro, non ho mai capito se sono dollari o euro. Dollari. Avete 2000 dollari per cominciare ad utilizzare App Engine e Compute Engine. Vi ricordo App Engine è completamente gratuito se utilizzate un'istanza, avete tipo 24 ore di istanze al giorno, quindi la matematica è abbastanza semplice o potete creare 4 istanze per 6 ore e poi tirarle giù se non sbaglio. Però l'idea è che se usate un'istanza solo, una macchina virtuale sola, è gratis. Dalla seconda in poi cominciate a pagare, ok? Compute Engine invece no, purtroppo dovete pagare ogni singola macchina che utilizzate e infatti vi dicevo tendenzialmente si utilizza per operazioni di back-end, operazioni che un front-end come App Engine non sia in grado di sostenere da solo. Quindi dovete un po' sbatterci la testa e capire qual è la cosa migliore da fare per voi. Una cosa molto interessante che Mepar ha fatto, chi di voi conosce Mepar? Sapete cosa fanno? Allora, alzi la mano chissà cosa vuol dire MapReduce, almeno ha un'idea di che cosa sia. Perfetto, wow, bravo, ai miei tempi non si insegnava a scuola. Allora, Mepar ha cercato di battere il record del mondo del petasort, se non sbaglio, no, terasort scusate, non ci siamo ancora a petasort. Il terasort c'è l'ordinamento di 10 alla 12 interi, cosa che è un tipico problema di MapReduce. MapReduce vuol dire mappa il problema in sottoproblemi, applica il problema in un'unità di computazione che possono essere n macchine virtuali o n processori, dipende dal contesto, e poi riassembla la risposta in un controllore. E così infatti hanno fatto. Il record del mondo attuale era fatto da 1000 server, 11000 core, dico 1400 server, ed era di un minuto e 0,2. Con GCI Mepar è riuscito a farlo con 1300 server, pensate 1000 unità di computazione e 3 controllori, 4000 dischi, 1300 core, quindi un core l'uno, e hanno battuto il record di 6 secondi. Non credo che la parte interessante sia battere il record di 6 secondi, almeno questa è la mia, il mio giudizio personale. La parte più interessante è che il record del mondo è stato ottenuto armando e configurando 1460 server fisici. Questo vuol dire che ci vuole del tempo, ci vuole almeno qualche mese, ok? Almeno. Dovete configurare i server, trovare dell'hardware che faccia per voi, che poi magari ha i suoi vantaggi perché avete sempre l'hardware dedicato, avete tutte le cose perfette per la vostra applicazione, però richiede tempo. E soprattutto quando avete fatto questo record del mondo, cosa fate? Buttate via questo hardware, lo riciclate in qualche altro modo? Ovviamente potete farlo, però non sempre è ciò che volete. Ora, Mepar tramite Google Compute Engine è riuscita con l'invocazione di GCI Util che i ragazzi di stamattina hanno toccato con mano. Fate un bel ciclo for, fai partire mille macchine, dammi uno script di inizializzazione bash con scritto configura questo, fai partire questo, eccetera. E nel giro di pochi minuti hanno tirato su mille istanze e hanno pagato qualcosa come 500 dollari, qualcosa che potete fare col vostro starter pack. Quindi la parte secondo me è interessante è che nel cloud, se vi viene un'idea un sabato pomeriggio e volete provare a vedere se funziona, potete scrivere un'applicazione e se non funziona, a me vi siete divertiti e avete perso un pomeriggio. Se funziona e vedete del business, l'unica promessa che vi posso fare è che il cloud è l'unica cosa che vi permette di aumentare in maniera indefinita il numero di istanze, clienti, la dimensione del vostro sistema nel giro di minuti anziché di mesi, cioè la velocità del sistema nel crescere se le cose van bene o decrescere quando le cose van male, dovete spegnere, smettere di pagare quando le cose non van bene, purtroppo è il rovescio della medaglia, il cloud vi permette di fare questo molto bene. Ok? Vediamo se ho finito. Una cosa molto interessante è che da poco tempo riusciamo a fare il billing a minuto, siamo partiti dall'ora, poi siamo arrivati a 10 minuti, adesso billiamo al minuto, vuol dire che se tirate su una macchina per 5 minuti pagate un dodicesimo. Per quel che so ci sono altre soluzioni in cui anche per 5 minuti pagate l'intera ora, quindi questo è un piccolo vantaggio che sentite, soprattutto se tirate su molte macchine.